Si mettono davanti al mare e noi non riusciamo a vedere i nostri bambini e non riusciamo neanche a vedere il mare. In primo luogo impediscono la vista mare, poi impediscono anche di controllare i bambini che giocano, poi non pagano le tasse, insomma di fastidio sembra che ne diano proprio tanto. Sono gli ambulanti che sulle spiagge libere di via este come questa occupano proprio la zona più panoramica. I clienti non mancano, ma una buona fetta di bagnanti non ne può più. Si è rivolta alle autorità, ma gli ambulanti sono sempre lì dove non potrebbero. Stazionano qui praticamente tutto il giorno, dalle 7 di mattina alle 7 di sera. Quest'anno sono molti di più degli altri anni. Non bisogna acquistare da questa gente, ma vedete in che situazioni i geni che vendono, sono capi intimi, intimi e abbigliamento, sono qui al sole, puzzano. In Italia fate chiudere un bar perché non fa uno scontrino, ok? Gente che lavora onestamente e ambulanti che vendono senza scontrino, senza niente. Hanno chiamato i vigili, però non hanno fatto un cavolo. Polizia e carabinieri. Praticamente ha fatto il giro di tutti, però sono sempre lì. Le forze dell'ordine qualche controllo l'hanno compiuto. L'ultimo il primo di agosto ed hanno sequestrato diversi pacchi di merce. Uno degli ambulanti colpiti dal blitz è Buabid Talà, marocchino, che esibisce una licenza del comune calabrese di Gizzeria. Dopo il sequestro è tornato in spiaggia con la merce. Noi dobbiamo vivere lo stesso, che dobbiamo fare? Dobbiamo andare a robare? Non lo so.